Buongiorno ragazzi, eccoci qui per un altro unboxing carino, questo non era come è successo per il Galaxy Watch inaspettato, ma lo aspettavo da un po' sono molto molto curioso, vi dico subito di che cosa si tratta, il nuovo iPhone XS Max nella colorazione gold la vera novità, almeno esteticamente, dimensionalmente parlando, il colore nuovo, insomma andiamo a vedere subito l'unboxing e vediamo anche le differenze dimensionali con il mitico Note 9, andiamo Eccolo qua, vediamo subito, ringraziamo come sempre MediaWorld per la sua efficienza perché ragazzi, nessuna fila, nessuno sbattimento, prenotazione tranquilla qua vedete il dettaglio del nuovo colore, qui lo vedete nella sua dimensione perché sarà sicuramente così e qui ci sono le informazioni, infatti ora andremo a scoprire se qualcuno di voi non lo sapesse e qual è il regalo che ci ha fatto Apple quest'anno andiamo comunque ad aprire ovviamente qui abbiamo la solita manualistica Apple è stata generosa, ci ha lasciato due di adesivi con la mela vediamo qui dentro ci sarà, eccolo, il classico pin per rimuovere la sim e basta la manualistica in tutte le due e qui c'è lui qualche secondo ancora vi voglio far vedere che finalmente Apple ha messo un caricabatterie rapido bugia, carica batterie classico credo che con questo, per quello che ho visto sulle recensioni americane ci vogliano circa 3 ore, 3 ore e mezzo a caricarlo va bene preservare la batteria, va bene tutto quello che volete però ragazzi, secondo me è un po' anacronistico l'ottimo cavo lightning USB e le cuffie classiche di Apple con la... no, non c'è l'adattatore sì, è proprio questo quello che volevo dire da quest'anno, se avete voglia di utilizzare le vostre cuffie tradizionali a filo con il jack da 3,5 dovrete comprare, a parte l'adattatore che Apple ci regalerà alla modica cifra di 9,99 euro cioè 10 euro sentite ragazzi, indipendentemente da quelli che sono gli schieramenti le passioni, le valutazioni del brand io ritengo che una casa del genere che fa pagare un prodotto di questo tipo 1.300, 1.400 euro dovrebbe comunque continuare a dotare di serie il proprio terminale di questo adattatore per quanto Apple possa essere convinta che sia la tecnologia migliore quella che è a bordo dovrebbe lasciare la possibilità compresa nel prezzo di avere il relativo adattatore e utilizzare le cuffie di tutti i giorni comunque, va ragazzi senza perdere tempo spero che si veda sotto la telecamera quello che è il colore di quest'anno pensavo, vi dico la verità che fosse più cipria in realtà è un bianco sporco tendente a rosa con dei, diciamo così, dei richiami di bronzo o di rame tant'è vero che quello che è il frame laterale richiama assolutamente questo colore scuro che è di una bellezza di un'eleganza incredibile accendiamolo così vediamo di configurarlo l'estetica è rimasta praticamente invariata abbiamo qui dietro le solite due ottiche in basso è stata posizionata diversamente l'antenna non più lateralmente soltanto ma c'è qui un'antenna che oltretutto va ad interrompere prima avevamo lo stesso numero di fori sia da un lato che dall'altro possono essere inensie però è giusto dirlo considerando quanto Apple sia maniacale sulla parte estetica ha deciso di fare questa cosa italiano non l'ho visto andiamo avanti speriamo di poterlo configurare così al volo insieme senza dover impostare mettere la sim che in questo momento non ho sotto mano la mia seconda sim configuriamo manualmente inseriamo un attimo la password del wifi fatto nel frattempo vi faccio vedere un pochino le differenti dimensioni è un po' più corto non so se riuscite a percepirlo è leggermente più largo come spessore siamo molto vicini un filo più sottile impostiamo in seguito non usare il codice non usare il codice andiamo avanti configura come nuovo iPhone un attimo inserisco i miei dati Apple di Apple attendiamo il codice di verifica di Apple per poter procedere eccolo qui fatto un po' farraginosa questa manovra ma l'ho scoperto diciamo è da sempre da qualche anno che c'è questa manovra di doppia verifica però diciamo che in linea di principio quando si ha a disposizione un iPad o un altro terminale iOS o un Mac OS X è facile io a portata di mano non l'avevo ci ha messo qualche secondo in più cavoli a distanza mi chiede il codice di iPad per verificare che il tutto sia corretto insomma ragazzi va bene va bene tutto però la rapidità nell'uso ok la sicurezza però va bene andiamo avanti impostiamo in seguito Siri continua non condividere continua scegli standard senza zoom continuiamo tanto che se le conosciamo ai conti del benvenuto bene ragazzi siamo arrivati vediamo un attimo allora proviamo ad aprire il sito della Apple vediamo valutate voi stessi le differenze non di navigazione navigabilità perché ovviamente Safari è una navigazione diversa rispetto a Chrome ma anche della posizione dei contenuti tra Notch e Age su Note 9 il Note volevo soltanto che vi servisse per avere per chi ha già il Note e non ha magari la possibilità di avere il nuovo iPhone come potete vedere è più corto e questa è una gran bella cosa sicuramente più cortino un po' più largo leggermente più largo ma è per la forma arrotondata così forse si percepisce di più ragazzi ovviamente a bordo abbiamo iOS 12 con le nuove con alcune variazioni sulle gestures andiamo a vedere nelle impostazioni c'è una novità che io avevo già visto sull'iPad e cioè abbiamo finalmente qualche riferimento più vicino a quello che è il mondo Android dei consumi e dell'utilizzo della batteria primissime impressioni vabbè non dico niente di nuovo è chiaro che ha un touch and feel incredibile si ha la percezione di avere un prodotto premium e vorrei vedere se non fosse così con un prezzo del genere anche qui abbiamo in questa schermata una serie come sempre di informazioni anche il tempo di utilizzo l'interfaccia è la stessa l'unica cosa che mi sento di dire che mi dà un po' fastidio è la impossibilità che abbiamo di mettere più icone quindi di sfruttare maggiormente lo spazio cosa che invece possiamo fare ad esempio su Android guardate le dimensioni delle icone di Android del Note e di questo iPhone XS Max sarebbe stato bello poterne godere maggiormente è chiaro che la navigazione scusatemi la navigazione è assolutamente al massimo della fruibilità con un display così grande andiamo su Tom's Hardware vediamo in quanto tempo apre e quanto è godibile vabbè ragazzi come sempre navigazione molto molto comoda ma non noto particolari differenze o una reattività maggiore rispetto ad Android in questo periodo sto utilizzando Note 9 come prodotto principale e vi devo dire la verità sì bello bellissimo quanto volete tutto quello che volete però non vedo grandi differenze è chiaro che se oggi volete un iPhone con display grande l'8 Plus è praticamente sempre disponibile ma può sembrare anacronistico con le cornici questo è più godibile per l'assenza di cornici però sono comunque 1300 euro che dovrete mettere in conto non che il Note sia particolarmente più economico ma siamo comunque a 200 euro in meno ma al di là di questo se volete ios e lui il telefono di riferimento per quanto riguarda le dimensioni e la possibilità di avere uno schermo molto molto grande credo di aver finito spero di avervi fatto vedere realmente quello che questo nuovo colore questa che è la nuova colorazione inizieremo ovviamente il test che non sarà un test di uno o due giorni come fanno su altre testate o su altri che fanno altri blogger perché ovviamente per capire le criticità ci vuole una settimana 15 giorni 20 giorni a seconda della situazione qui abbiamo anche un software aggiornato una nuova versione ios 12 per cui ci vorrà un po' di tempo comunque insomma seguiteci e più in là avremo la possibilità di fare la recensione completa di questo nuovo xs max alla prossima